Amo la natura, per questo scelgo un formaggio tutto naturale, zero additivi, zero conservanti e poi è così buono, ma voglio saperne ancora di più. Ciao Razzo. Ciao Riano. Sai quanti litri di latte servono per fare una forma di parmigiano reggiano? Boh, 200, 300. 600. Hai idea di quanti sono 600 litri di latte? Ah, una montagna. E poi facciamo parmigiano reggiano con gli stessi ingredienti, la stessa tecnica di produzione e la stessa cura artigianale da nove secoli. Ne avete di esperienza, ho capito. Siete dei campioni anche voi. Caro Giuliano, tu sei bravo a sciare. Noi sappiamo fare il parmigiano reggiano. Adesso c'è ancora più gusto.